Maestro Shifu, hai tempo? Non hai tempo? Il tempo è un'illusione. C'è soltanto adesso. Perciò adesso... Hai tempo? Devi fare un passo avanti nel tuo viaggio. Da guerriero a insegnante. Ma io non sono bravo. Oh no! È l'insegnante dragone! Come affascinante! What up! Oh, ciao papà! Come va? Sei pessimo. Chi sei tu? Io sto cercando mio figlio. Papà? Dal tuo vecchio un abbraccio! Come sappiamo che è imparentato con te? Guarda qua! Vieni con me. C'è un villaggio segreto dei panda sulle montagne. Wow! Benvenuto a casa, figliolo. Sei proprio come me, ma bambina. Sei come me, ma vecchia. Oh, è adorabile! Sto bene! Chi è il maestro del dolore e la bestia della vendetta di Clea Vedove? Nancarosca. Vabbè, ho lavorato con Uguay. Oh, il maestro Uguay! Silenzio! Kai ha attaccato la valle, è tutto distrutto. Ora arriva per i panda. Deve insegnare loro a combattere. Io sono pronto. Vi trasformerò in maestri di Kung Fu. Nessuno ha detto che sarebbe stato facile. Preparatevi a ballare con il pericolo. Amici della giustizia, preparatevi alla guerra. Stiamo scherzando. Tu devi essere il guerriero dragone. Se mi risparmiassi il qua qua... Mi prenderò il tuo... Ah, qua qua. In questo... Qua 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 qua. In questo... Qua 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 qua... Dobbiamo lanciarci. Ma maestro Sifo ha detto... Hai davvero paura? Perfino maestro Pollo si sta lanciando. E lui è un pollo. È pronto. ...a tutto. Perfetto. Davvero? No. Di nuovo!